Salve a tutti amici di Transformers, da Just Luca del forum Motorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione, no, non proprio una nuova video recensione, più che altro a un'introduzione di una video recensione, nel senso che vorrei parlare, giustamente, del bellissimo Optimus Prime Studio Series, la versione tratta dal film Bumblebee, però per farlo giustamente dovrei fare un cappello introduttivo riguardo alle varie incarnazioni di Optimus Prime, tra cui appunto questa qua, Optimus Prime, versione cinematografica dal vivo. Ho comunemente detto Bayformer e quindi lo faccio in un video a parte, diciamo, dove faccio un po' il provocatorio, nel senso, il titolo potrebbe anche essere, qual è meglio per un film cinematografico dal vivo, una versione di Optimus Prime dal vivo? il Bayformer o il Beeformer? B nel senso da Bumblebee, il film di Bumblebee, chiamiamolo così dai. Dopo Bayformer abbiamo Beeformer. E niente, insomma, praticamente, questo Optimus Prime, il nostro Optimus Prime, comunque, ha avuto anche diversi cambi di look nel corso delle sue apparizioni cinematografiche dal vivo, ripetiamolo. Dato che appunto abbiamo la prima versione Bayformer, appunto, dove compare con questo look rinnovato di cui adesso scenderò più in dettaglio, senza contare però che c'è stato anche, c'è stato anche una, diciamo, versione anticipatoria del nostro Optimus Prime, nella sua versione Cybertroniana, che diventa, diciamo, una specie di veicolo simile al Meteora, dato che appunto riprende la scena dove gli Autobot arrivano nelle forme di Meteoro e nelle loro forme basilari, diciamo, Cybertroniane. Appare proprio brevemente Optimus Prime, prima di trasformarsi e prendere le fattezze di camion da Musolungo. E quindi, hanno fatto comunque di questo e anche il modellino, con questo look, appunto, Cybertroniano. Ma diciamo, appunto, che a parte i discorsi dei vari upgrade, Optimus Prime mantiene questa forma, oltre dell'upgrade con Jetfire, poi con il razzo del camion, del rimorchio in Dark of the Moon, il nostro Optimus Prime, bene o male, appunto, mantiene questo look, che però, a un certo punto, viene preso, non tanto il look base, dato che il look base, possiamo vedere, rimane pressoché lo stesso, come forma dei dettagli del corpo, insomma, ma, cambia cosa, la modalità alternativa, nel senso che, finalmente, appunto, Optimus Prime ha, come modalità alternativa, un camion senza muso, insomma, come il Freightliner, adesso mi ricordo le marche dei veicoli, perdonatemi. Insomma, praticamente, come tanti fan, appunto, volevano, prima che facessero, appunto, il nostro B-Former, qui, finalmente, Optimus Prime, B-Former, ha questa forma, questa modalità alternativa, di camion, senza muso, come il G1. Poi, però, c'è stato cosa, che, sempre nel film, nel quarto film Age of Extinction, questa ha solo una parte transitoria, giusto per promuovere un esnesimo modellino, giustamente, e Optimus Prime ha un nuovo look, molto, assai più, diciamo, stilizzato, nel senso che scompaiono, appunto, le varie, scompaiono, sì, scompaiono proprio i vari rimandi classici al G1, nel senso, i famosi, appunto, finessini sul petto, e abbiamo questo look molto stilizzato, che, comunque, come look, secondo me, non poteva partire dal nulla, ma è una, diciamo, giusta evoluzione del, del look, del B-Former, diciamo, originale, e, secondo me, come evoluzione, diciamo, ci sta, nel senso che, dopo tre film, un cambio di look, questi Transformers, è stato giusto che lo abbiano avuto, anche perché, poi, in generale, in Age of Extinction, quarto, il quinto film, poi, del Last Knight, abbiamo una sorta di antropoformizzazione maggiore dei vari robot, dato che prima erano un po' troppo alieni, adesso sono anche un po' troppo terrestri, nel senso che hanno il look, c'è Hound con la barba, il coso, il crosshair che ha il pizzetto, fattezza è molto più, e con tanto anche di, sempre crosshair ha anche proprio spolverina, praticamente, e quindi, insomma, c'è stato un cambio di look, il B-Former si è evoluto in qualcosa di più visivamente anche, neanche non plausibile, no, ma accettabile, nel senso sono look anche un po' cartuneschi, potremmo dire, un po' stilizzati, forse li mandano anche ad animated, diciamo, nel senso di essere stilizzati e avere una forma abbastanza, appunto, riconoscibile, laddove, appunto, i B-Former erano stati criticati, perché erano cose senza forma, praticamente, robot abbastanza, quasi tutti uguali e senza forma, mentre qui sono ben stilizzati e definiti, e anche, appunto, il nostro Optimus Prime con questa sorta di nuovo look, stile armatura quasi medievale, appunto, è un'evoluzione, ma del B-Former. Torniamo quindi al B-Former originale, scusate se lo chiamo così, ma è una definizione che ormai ha preso pieni da anni, e ovviamente poi c'è stato cosa? Prima di tornare al B-Former, c'è stato il film di Bumblebee. Il film di Bumblebee è stato ambientato, non a caso, negli anni Ottanta, proprio la storia, è un ritorno degli anni Ottanta anche in generale proprio per il look dei Transformers stessi. Ne abbiamo parlato anche nella recensione del film di Bumblebee, ma in generale, appunto, anche la sequenza introduttiva con tutti i Transformers classici, anche nelle loro apparezioni classiche, e appunto il discorso era che effettivamente si poteva fare già da subito, dal primo film, un Optimus Prime così, così simile a G1. Magari si pensava di no, invece sì, eccolo qui, il nostro Optimus Prime B-Former, come lo chiamo io. E cosa dire allora, ma ha senso aver fatto il nostro qui B-Former originale con questo look un pochino sempre, diciamo, un po' troppo alieno. Secondo me, ai tempi, il motivo c'era, nel senso che comunque, via, comunque il film di Michael B, insomma, sono scaturiti grazie al successo di Armada, quindi, anche Armada non era una fotocopia della G1, anzi, oddio, più avanti un po' da Energon poi hanno iniziato a citare, davvero, a citare parecchio la G1 con personaggi, eccetera, insomma, i design e tutto, ma Armada era già qualcosa di diverso, che aveva appena appena qualche nome della G1, e appunto c'era Optimus Prime che aveva un camion, una modalità di camion musolungo, ripresa ovviamente qui dal nostro B-Former originale, e possiamo dire che però comunque, anche obiettivamente, un camion con musolungo, diciamo anche senza rimorchio, ha più potenza visiva di un camion a muso, senza muso, insomma, senza rimorchio, ripeto, perché il bello di Optimus Prime G1 è che si ha il camion, però anche tutto il bel rimorchio dietro, mentre ovviamente il nostro partiva senza, e quindi ci stava anche il discorso di avere il camion, un bello grande col musolungo, insomma. E anche, diciamo, era essenziale nel citare appunto le caratteristiche del G1, ovvero appunto i finestrini sul petto, le canne fumari qui sulle spalle, le ruote magari sparse appunto nel corpo, laddove appunto il nostro qui, il Last Night, Age of Extinction, insomma, ingloba tutto, si vede praticamente pochissimo, se non nulla, della modalità alternativa, e non è il massimo, perché onestamente i Transformers sono belli anche perché appunto esibiscono qualcosa della loro modalità alternativa, se no non sarebbero Transformers, a mio avviso. E insomma, alla fine, questo B-Former, abbiamo detto che si poteva pensare che inizialmente era una cosa difficile da proporre, un Transformers, un Optimus Prime, proprio preso, copie con lato, quasi dal G1, invece alla fine sono riusciti a fare il nostro B-Former, e praticamente è perfetto, niente da dire, perché proprio è come Optimus Prime, cita perfettamente il G1, in tutte le caratteristiche, anche... potrebbe essere proprio una versione moderna, realistica, ed è effettivamente tale, del G1 del 1984. E infatti appunto, anche la trasformazione poi cita bene la G1, magari dopo ne parlerò nella recensione, il camion è un pochino un po' troppo banale, ecco appunto, nel suo essere appunto così, ma ne parleremo mai nella recensione sua, che seguirà con calma questo video introduttivo, ma insomma il concetto di questo mio video, un po' provocatorio, è qual è meglio per il film, per i film cinematografici dal vivo, il B-Former o il B-Former? Secondo me, diciamo, ripeto, non per essere appunto per due piedi in due scarpe, ma secondo me, a suo tempo, è stato giusto che Optimus Prime avesse un look diverso, ripeto. Poi, con me è stato giusto che, alla fine, per una sorta di... per questo nuovo, diciamo, reboot cinematografico partito col film di Bay, di Bumblebee, scusate, ci sia stato un cambio ennesimo di stile, ovvero un ritorno alla G1, prettamente, nel senso appunto che, anche grazie al discorso che siamo vicini, abbiamo appena passato il 35ennale l'anno scorso del brand, quindi il fatto di rifarsi alla G1 ci stava, dopo appunto l'exploit con stile nuovo e tutto, che fu dei B-Former, che, ripeto, a suo tempo aveva senso il fatto che dei robot alieni di un altro pianeta avessero un look alieno, insomma, abbastanza... poi hanno anche calcato la mano un po' troppo male su questi alieni in certi design, ripeto, da una parte non mi dispiacciono, tipo, i constructi con così alieni come... anche modalità robotiche, mentre altri, alla fine, però, sono stati... è vero, molti autobot erano praticamente quasi uno uguale all'altro. E invece alla fine, diciamo, insomma, se non fosse stato per il successo comunque avuto dei film di Bay, non avremmo avuto il film di Bumblebee con il ritorno al look G1, quindi diciamo che a livello stilistico, non tutti per carità, ma comunque a grande linea, l'idea anche di questi B-Former originali non era male. Anche, ripeto, per dare un po' di linfa, cioè, per non fare qualcosa, ripeto, ai tempi, quando era più di dieci anni fa, ci stava che i Transformer non erano solo la G1, ma erano appunto varie interazioni e i B-Former avessero appunto una loro identità stilistica. Ovviamente, come è già successo appunto già in tanti altri brand, in tante altre linee dei Transformers, dopo l'innovazione si è tornato al classico, ovvero appunto al look G1. Questa cosa di ritornare al look G1 si è vista appunto, abbiamo detto, da Armada ad Energon, ma anche a altri... mi pare anche tipo, cos'è? Sì, Reed 2015 hanno avuto una sorta di ritorno, inizialmente, prima con i nemici nuovi, nuovi personaggi come i nemici del gruppo di Autobot, poi un ritorno di Starscream, Sunwave e via così. Quindi alla fine diciamo che è normale che magari si parte con qualche idea innovativa, ma poi si ritorni sempre alla G1, giustamente. Però è anche giusto che ci siano idee innovative da proporre, se no avremo sempre la G1 ciclica, sempre quella ogni tre anni, alla fine sempre questi modellini, diciamo, stessi personaggi, stesse facce. Comunque ripeto, alla fine questo Optimus G1, andremo a vedere poi nel specifico della videorecensione, è davvero bello. Però, ripeto, secondo me comunque non avremmo potuto averlo già all'inizio, ma è stato giusto iniziare con un nuovo stile, con quello questo di Bayformer, che dopo i Bayformer hanno preso il piede in un'altra maniera, hanno anche esagerato, e un altro paio di maniche, così appunto, ripeto, anche il Bayformer parte seconda, 2.0, ovvero quelli del quarto e quinto capitolo cinematografico dei Transformers, a loro modo non potevano esistere senza il nostro originale Optimus Prime Bayformer. E quindi, niente, praticamente, qual è meglio dei due, entrambi, dato che comunque questo non sarebbe vissuto, non sarebbe, non avrebbe avuto vita, diciamo, senza questo. Però, obiettivamente, da fan della G1, tenderei a preferire, ovviamente, il nostro Optimus Prime, cioè da fan della G1, visto che sono cresciuto con quella, a preferire un look comunque, possibilmente, simile alla G1, dato che alla fine si poteva fare, perché obiettivamente magari si pensava di no, ma alla fine il risultato è questo, ed è realistico, diciamo, non è così troppo cartunesco, come si pensava, magari, appunto, e dopo si è caduti a fare il Bayformer. E quindi questo, diciamo, il mio pensiero sul Bayformer, Bformer, qui tendenzialmente preferirei giustamente i Bformer, nel senso di Transformer più vicini alla G1, ma comunque apprezzo il, ciò che c'è stato, prima la lavorazione, per fare, appunto, questi Transformers, Bayformer, diciamo, alieni. Grazie, quindi, per aver visto questo mio video. Fatemi sapere cosa ne pensate, anche voi, se preferite i... cioè, se date... non se preferite, ma se date una chance ai Bayformer, che comunque sappiamo essere abbastanza visti male, in generale, dal grosso della fanbase, soprattutto quella vecchiotta come me, oppure se amate, appunto, il nostro nuovo Bayformer, GUNESCO, come volete chiamarlo, e speriamo, appunto, anche di vederlo di nuovo in qualche altro prossimo film dal vivo, e soprattutto anche senza Bay alla regia, come sappiamo, che ha... meglio non toglierlo dalla regia Bay e mettere qualcun altro, tipo Travis Knight di Bumblebee, appunto, ma è un altro discorso questo. Comunque, vi ripeto, grazie mille per aver visto questa mia recensione atipica, questo mio commento un po' provocatorio, abbiamo detto, forse, su questi due modi di vedere Optimus Prime dal vivo cinematografico, e quindi, grazie ancora, e mi raccomando, mettetevi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, e soprattutto, condividete e anche partecipate alla Comunità Italiana su Facebook di autorobot.it. Grazie ancora, e ci vediamo alla prossima videorecensione. Grazie.